Vi racconto io cosa fanno queste licenze e come sono state concepite. Vedete che sono state concepite secondo quattro clausole base, cioè quattro caratteristiche che poi vengono combinate per creare le sei licenze Creative Commons. Quindi queste sono le quattro condizioni base delle licenze o quattro clausole base. Attribuzione, attribution con il simbolino dell'omino, non commerciale, cioè non commercial con il dollaro barrato, non opere derivate, cioè una licenza con questa caratteristica ci dice che non possiamo fare opere derivate, cioè non possiamo farne modifico e derivazioni. Cioè un brano musicale non può essere trasformato in un remix, in una cover, oppure un'opera letteraria non può essere trasformata in una traduzione, in un'altra lingua, oppure in una derivazione teatrale di quel romanzo. Il condividi nello stesso modo ci dice invece che l'autore ci permette di fare opere derivate, ma solo a condizione che anche le opere derivate vengono rilasciate con la stessa licenza, share alike. Condividi nello stesso modo, cioè rilascia anche tu con la stessa licenza le opere derivate, infatti vedete che il simbolino è una C rovesciata che è il simbolo del copyleft e nello stesso tempo è a forma di freccina, no? Se fate caso, zoom, si vede che è una freccina e quindi vuol dire che, adesso vediamo se riesco a tornare a dimensione, ecco, vuol dire che i diritti tornano indietro. Cioè in qualche modo c'è un meccanismo virtuoso per cui si ricrea lo stesso meccanismo di libertà che era stato creato dall'autore originario. Quindi l'autore originario rilascia un testo letterario con questa licenza, arriva un autore di teatro che lo trasforma in una sceneggiatura teatrale, quindi anche la sceneggiatura dovrà essere rilasciata sotto la stessa licenza, arriva un regista che ne fa un film e anche il film dovrà essere rilasciato sotto la stessa licenza. Eccolo qua, il meccanismo a cascata. No, non avevo zoomato bene, eccolo qua, così dovremmo riuscire, perfetto. Ecco le sei licenze. Queste sono le sei più una messe nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva. Cioè, tornando al nostro schema questo, la più libera è qua, dove c'è pubblico, vicino a pubblico dominio, e poi man mano scendiamo, cioè andiamo in un'altra direzione, ci avviciniamo al copyright perché si aggiungono restrizioni. E infatti, vedete, eccolo qua il CC0. Vi avevo detto, ci torniamo dopo, eccolo qua. Quando abbiamo parlato del pubblico dominio, questo è il pubblico dominio artificiale, cioè creato artificialmente attraverso questo strumento che si chiama CC0. Poi abbiamo attribution, cioè una licenza in cui l'autore sostanzialmente ci dà tutti gli usi liberi a condizione che venga riconosciuta la paternità, cioè che venga riconosciuto l'autore originario. Per il resto è tutto libero. Poi attribution share like, che è la licenza di Wikipedia e anche di queste mie slide. è una delle più utilizzate sostanzialmente. Basta contare quante voci di Wikipedia, siamo arrivati a milioni e milioni di voci di Wikipedia in tutte le lingue, tutte quelle sono rilasciate sotto licenza attribution share like, cioè Wikipedia è l'enciclopedia libera non solo perché è gratis, perché tanti siti, buona parte dei siti web sono gratis, ma non è una questione di gratis, non è che è solo perché non pago e posso leggere quello che c'è scritto, ma è anche libera, perché c'è una licenza che mi dà delle libertà come utilizzatore, tra cui anche quella di farne opere derivate. Io voglio fare una dispensa da distribuire per un corso, che faccio anche a pagamento, quindi un manualetto che io realizzo e che vendo, prendendo voci di Wikipedia e modificandole. Lo posso fare perché la licenza Wikipedia consente anche l'uso commerciale, a condizione che questa mia dispensa venga a sua volta rilasciata sotto la stessa licenza. Poi abbiamo la attribution no derivatives, è sostanzialmente la stessa cosa ma con il vincolo delle non opere derivate, cioè un po' più restrittiva perché non è possibile farne derivazioni, l'abbiamo detto prima. E poi abbiamo le stesse tre licenze, queste qua, con l'aggiunta del non commercial. Vedete? Non commercial, non commercial, cioè le stesse tre con un vincolo ulteriore, cioè non posso farne utilizzi commerciali. Questo serve a volte agli autori per mantenere, per potersi garantire uno sfruttamento commerciale delle opere parallelo, no? Cioè io sono un autore di appunto manuali, faccio da un lato un contratto con una casa editrice a cui do l'esclusiva commerciale in cambio di una royalty che mi viene versata annualmente, classico modello tradizionale del contratto di edizione. Ma dall'altro lato rilascio l'opera, il mio manuale, con una licenza non commerciale, in modo tale che chi ne fa utilizzi non commerciali lo possa fare liberamente e quindi ecco che si creano questi due binari. Chi vuole sfruttare il mio libro commercialmente, cioè la casa editrice, lo fa secondo il vecchio modello, invece chi lo fa in modo non commerciale, lo fa sfruttando, cioè leggendo i termini della licenza e rispettando quelli. Arriviamo poi all'ultima che è, vedete, la più restrittiva, cioè attribution non commercial no derivatives, cioè ha due caratteristiche negative, due restrizioni e quindi nel nostro schema che abbiamo visto qua è diciamo quella più vicina, più a sinistra, cioè più dalla parte qua dove c'è copyright. Questa infografica è fantastica, fatta da un certo fotter che è uno bravo nella rappresentazione grafica dei dati e questa non fa altro che prendere lo stesso elenco che io ho fatto qua e rappresentarlo graficamente in modo molto efficace per farvi capire che cosa si può fare e cosa non si può fare con le varie opere che trovate. Cioè trovo un'opera con una licenza ccbuy ncsa, vado di qui e vedo in questo schema cosa posso fare e cosa non posso fare. Posso farne ripubblicazioni e copie? Sì. È richiesta l'attribuzione? Sì, perché c'è sempre il ccbuy, c'è il buy, c'è l'attribution. Posso fare un uso commerciale? No, perché c'è il non commercial. Posso modificare e fare adattamenti? Sì, perché c'è lo share alike e quindi mi consente di fare adattamenti, però non posso cambiare la licenza sulle opere derivate perché c'è lo share alike che mi dice devi mantenere la stessa licenza anche sulle opere derivate, ok? Quindi questa slide qua la dovreste in teoria tenere stampata lì da qualche parte perché è davvero la mappa più facile da leggere per orientarsi nel mondo dei creative commons. Grazie.